Tutti felici oggi in casa? Sì, con una cucina di marca Ariston. Perché con una cucina Ariston è facile preparare un buon pranzo. Il piano è tanto spazioso. Il forno è così grande e ha tutte le comodità. La valvola di sicurezza, la luce interna, il vetro panoramico e il termostato per regolare la temperatura. Sì, felicità in casa con una cucina di marca Ariston. Ariston, cucine a gas, cucine elettriche e miste, mobili componibili, scaldacqua. Ariston, la grande marca di elettrodomestici.